Grazie Guido, grazie a tutti voi, grazie a tutti coloro che hanno investito una giornata per il futuro della Lega. Oggi noi siamo qua a lavorare per dare un futuro ai militanti e un futuro a tutti i militanti e i sostenitori della Lombardia che credono in noi. Innanzitutto voglio portarvi il saluto dei dodici senatori che vi rappresentano in Senato, dodici militanti che quotidianamente lavorano e lavorano a vostra disposizione e sono a disposizione di tutti coloro militanti, sostenitori e simpatizzanti che vogliono cambiare questa nazione. Dodici persone che quotidianamente si impegnano e sono l'ultimo baluardo in Senato contro il renzismo, contro questa visione di società totalmente distorta e questa visione di società totalmente diversa rispetto a quella che vogliamo e che speriamo di ottenere il prima possibile. Purtroppo in questo momento abbiamo un Presidente del Consiglio che la fa da padrone, abbiamo un Presidente del Consiglio che umilia i cittadini italiani, abbiamo un Presidente del Consiglio che al posto di pensare ai 10 milioni di italiani sotto la soglia di povertà pensa agli immigrati, abbiamo un Presidente del Consiglio che invece che pensare che in Italia c'è il 44% di disoccupazione giovanile pensa a comprarsi l'aereo di Stato per andare a farsi selfie in giro per il mondo. Questo è un Presidente del Consiglio che noi combattiamo. Non sto qui a farvi l'elenco di tutte le attività parlamentari che fa in questo momento la Lega in Senato. Dico soltanto che noi siamo a vostra disposizione, lo siamo sempre stati e lavoriamo quotidianamente a contatto con le realtà, con le sezioni e con le nazioni della Padania. Dico però una cosa, visto che siamo al Congresso della Lega Lombarda, questo Congresso ritengo che sia importantissimo. Siamo riusciti ad arrivare al Congresso con un candidato unico, abbiamo da oggi un Segretario nazionale, Paolo Grimoldi, che da questo palco ha dettato le linee e io dico a Paolo il gruppo della Lega in Senato è totalmente a tua disposizione, confrontiamoci per portare avanti una battaglia comune. Comune come devono essere gli ideali e come devono essere le battaglie che portiamo avanti quotidianamente. Però io non voglio vedere divisioni, non mi piace, e questo lo dico per un'onestà intellettuale delle persone che sono salite sul palco prima di me. Non mi piace sentir dire che i parlamentari non versano al movimento. Se si dice una cosa del genere si fanno nomi e cognomi. Non mi piace dire che i parlamentari non fanno un cazzo tutto il giorno. Se si dicono queste cose si fanno nomi e cognomi. Non mi piace sentir dire che ci sono persone che quando arriva Matteo Salvini alle feste fanno la fila, e si fa riferimento ai parlamentari, fanno la fila per stare vicino a Matteo Salvini e non fanno niente. Io quando vado alle feste vedo parlamentari che servono al tavolo, che fanno il lavoro, che fanno i militanti. Se si dice questa cosa si fanno nomi e cognomi. Perché chi non fa nomi e cognomi vuol dire che è in mala fede. In mala fede. Non mi piace, non mi piace sentir dire, e non mi piace, continuerò a dirlo, che ci sono persone che sono meglio delle altre. Qui siamo tutti militanti, siamo tutti, ci rimbocchiamo tutti le maniche, e ognuno lavora e ognuno opera per il bene del movimento, che sia un militante appena arrivato o che sia un parlamentare. I parlamentari hanno la fortuna, e dico la fortuna e l'onore di rappresentare tutti voi. I parlamentari sono i dipendenti, come se fossero dipendenti dei militanti e di conseguenze parlamentari sono a disposizione di tutti. Ma sentir dire da qualcuno e sentir insultare il lavoro che facciamo e che fanno i miei colleghi, lasciate stare Gianmarco Centinaio, ma che fanno i miei senatori, il lavoro che fanno quotidianamente i miei senatori, io quell'insulto lo rimando al mittente. Signori colleghi, siamo disponibili, siamo qua a lavorare tutti insieme, siamo qua per una Lega Lombarda tutta unita. Chi è salito su questo palco per dividere, forse è meglio che cambi partito. Grazie.